E questo è un dato di fatto, perché se chiedi a un qualsiasi barista un cappuccino fatto con un latte di soia, una bevanda alternativa, ti dice eh no, ma non va bene né per fare il cappuccino né per fare la latte art. Ma perché? Il video di oggi è interamente dedicato alla montatura del latte vegetale, intendo latte di soia, cocco, almond, insomma queste tipologie di latte che ad oggi stanno prendendo piede sempre di più, infatti vedremo anche il perché. Perché? Inoltre sveleremo qualche trucchetto per realizzare un bellissimo cuore sul nostro cappuccino con le bevande alternative. E adesso iniziamo! Via! Partiamo con ordine. Oggi come oggi queste bevande stanno prendendo sempre più piede per diverse tipologie di motivi. Il primo tra tutti è sicuramente legato a una questione di intolleranza al lattosio. Non so se lo sai, ma il popolo italiano è il paese con il più alto tasso di intolleranza appunto del lattosio. Ad oggi di bevande vegetali ne esistono di diverse tipologie, come ad esempio i piselli, la soia, l'avena, la mandorla, il cocco. E proprio questi ultimi due sono quelli che noi prenderemo in considerazione in questo video, perché oltre ad essere i miei preferiti, hanno delle caratteristiche fighissime quando vengono combinate con il caffè. Ad esempio il latte di mandorla è perfetto per le miscele classiche italiane, quelle che hanno i sentori di cioccolato, frutta secca. Inoltre è in grado di aggiungere pienezza e corpo alla nostra bevanda. Il latte di cocco invece lo vedo molto interessante nelle bevande fredde tipo gli ice latte. Se sei interessato a questo argomento lascerò nelle descrizioni qui sotto un video interamente dedicato alle ricette degli ice latte, utilizzando anche le bevande vegetali come il latte di cocco. Ma per quanto riguarda la parte del cappuccino c'è qualche caratteristica interessante. L'unica cosa è che essendo molto forte a livello sensoriale, quindi a livello di gusto, tenderà a sovrastare un pochettino il gusto del caffè. Quindi utilizzabile principalmente nei macchiati o nei macchiati lunghi. Molto interessante in questo contesto insomma. Ma passiamo alla parte pratica. Dopo aver riempito la nostra lattiera, mi raccomando la sua metà e con il latte ultra freddo, andremo a spurgare un pochettino di vapore ma dopo vediamo il perché. Inseriamo la nostra lancia vapore all'interno del latte appena sotto la superficie. Azioneremo il pulsante e poi inizieremo ad abbassarci piano piano ed un pelino giusto per fare inglobare un po' d'aria. E adesso vediamo la parte interessante legata principalmente alla temperatura. Ma prima di andare avanti con questa parte ti chiedo un like se questo contenuto lo stai trovando utile e ti sta piacendo. Se invece è la prima volta che capiti su questo canale, ebbene benvenuto. Sono Angelo, il detective del caffè, ed in questo canale trattiamo solo argomenti legati al caffè, metodologie di estrazioni e tecniche e ricette. E se come me condividi questa stessa passione, ebbene ti invito a cliccare sul tasto iscriviti proprio qui sotto. Questo tuo gesto per me è veramente importante. E adesso torniamo alla montatura. Quando non riusciamo più a toccare il lato della lattiera, beh, siamo arrivati al punto giusto. Ricordati sempre che le bevande vegetali si scaldano molto prima del latte vaccino, quindi è importante la loro temperatura. Perché una temperatura troppo alta per le bevande vegetali può influenzare la riuscita del tuo cappuccino in maniera molto negativa. Ho parlato di questo argomento proprio in questo contenuto qui in alto. Ti consiglio di andarlo a vedere alla fine di questo contenuto. Perché vediamo come influenza la temperatura e il pH della bevanda e cosa succede. Insomma, sono cose un po' più particolari. Vi consiglio di andarlo a vedere. Ma adesso lascerò la parola al mio amico detective, che è il nerd del caffè, semplicemente perché ci spiegherà qualche cosa fighissima da sapere sulla lancia vapore. Adesso pure nerd mi chiama. Più che sulla lancia vapore, oggi parleremo del vapore. Perché tutti erroneamente pensano che la crema di latte sia proprio composta da quello stesso vapore. In realtà, quando noi premiamo il pulsante per azionare il vapore, succedono ben tre cose fondamentali. La prima, il vapore caldo verrà a contatto con il liquido freddo, condenserà ed aumenterà il peso all'interno della lattiera, proprio perché ci sarà questa condensazione di questo vapore. La seconda cosa, fighissima, attraverso l'energia cinetica, quando la lancia vapore è appena sotto la superficie del latte, riuscirà a coinvolare al suo interno l'aria presente all'interno della lattiera. E questa è una cosa fighissima. E poi, per terzo, ovviamente la più scontata di tutti, andremo attraverso questa energia anche a riscaldare il latte. E adesso impariamo qualche trucchetto fighissimo per fare il cuore con le bevande vegetali. La prima cosa da fare è da 4-5 cm riempire la nostra tazza fino alla sua metà. Dopodiché inclineremo la tazza e avvicineremo il beccuccio al massimo possibile, spingendo la crema di latte più velocemente. Dopodiché ci allontaniamo e andremo a tagliare la nostra figura da destra a sinistra. Rivediamolo molto velocemente. Quindi riempiamo la tazza, incliniamo, aumentiamo la velocità anche facendo dei movimenti destra-sinistra, ci allontaneremo e taglieremo la nostra figura. Ora mi piacerebbe sapere da te quale tra le bevande vegetali è la tua preferita e soprattutto con quale drink la preferisci, se è un macchiato, un caffè latte o un cappuccino. Io al momento mi fermo qui. Grazie mille per aver seguito questo video. Ci vediamo nel prossimo. Ciao! Ciao!